...della buca nella strada o vado a fare la fotina di fianco all'albero, oppure vado a prendere posizione su quante api ci sono sui fiori e quanti ne abbiamo tagliati. Dall'altra parte però ci sono stati degli interventi secondo me scomposti, scomposti perché capisco la critica politica, capisco la provocazione, ma all'interno di questa assise in questi anni abbiamo assistito troppe volte a un tentare di, invece di entrare nel merito, chiaramente come è stato fatto da parte di qualcuno che io ho ringraziato, si è cercato purtroppo di screditare, di slobare, di utilizzare anche frasi che non mi vanno neanche di riportare questo intervento, cercando di criticare non nel merito fattuale, ma cercando di criticare un modo di fare opposizione e cercando di spiegare come sia utile o meno fare opposizione. Io sono stufo o quasi nauseato di sentire queste cose sul cercare di dare lezioni di galateo istituzionale e ripeto, queste frasi comunque non qualificano il ruolo importante che uno ricopre e io penso che quando si indossa la fascia tricolore si rappresenta ad ogni modo tutti i cittadini, tutti noi siamo stati eletti e siamo stati votati come il sindaco Piastra e quindi sarebbe importante che ci sia una sorta di rispetto anche nei confronti di chi non la pensa come lei.